Buongiorno Friuli anche da parte della redazione sportiva, domenica 18 settembre, domenica che ovviamente è ricca di tematiche, ricca di contributi dall'Udinese che gioca fra qualche ora praticamente contro il Chievo Verona, dalla sconfitta del Pordenone, ma parleremo anche di tanto altro con la brillante primavera dell'Udinese ad Ascoli per quanto riguarda la formazione di Luca Mattiussi. Cominciamo ovviamente dall'analisi dei quotidiani locali, a cominciare dal messaggero veneto che scaramanzia a parte, Iachini ieri abbiamo visto essere molto alla ricerca di ferro durante la conferenza, va detto, Udinese che gioca per il Tris, dice Pietro Leotto dopo aver battuto Empoli e Milan, può spezzare un incantesimo lungo due anni, sono più di due anni quindi che non arrivano tre vittorie consecutive, o meglio non più, sono praticamente due anni perché alle partite che abbiamo citato qualche tempo fa senza gol subiti contro Lazio e Napoli eravamo all'inizio della gestione Stramaccioni, poi arrivò anche una vittoria proprio contro il Parma per 4 a 2, è quello l'ultimo Tris che ha infilato l'Udinese che ovviamente alle 12.30 ha la prima chance di due casalinghe, si comincia con il Chievo, mercoledì sera poi nemmeno il tempo di riposare, di metabolizzare quella che sarà una vittoria, un parigi o una sconfitta e sarà il turno della Fiorentina alle 20.45, infatti si tornerà in campo per il primo turno infrasettimanale, fatevi invitare all'ombra dell'Arco dei Rizzi oggi per l'ora di pranzo, il menù a prezzo fisso, stavolta è davvero ricco, basta pagare il campionato con un altro successo contro il Chievo per spezzare un incantesimo che dura da due anni e noi speriamo davvero che possa essere la volta giusta, un Udinese che vedremo poi con le ipotetiche formazioni scenderà più o meno con quella squadra che ha vinto a Milano, tra l'altro l'abbiamo già detto ieri, inquadrato e commentato nel corso del servizio dedicato ai donatori di sangue, la passione della nostra forza è diventato friulano con la passione e la nostra fuorce, questo che c'è scritto proprio sullo slogan che ormai contraddistingue lo stadio bianconero, avrà questa sigla in friulano, accordo Tag Club Arlef e Comune, è uno slogan che quindi è stato cambiato sotto gli skybox dell'impianto dei Rizzi, è il segnale che il protocollo d'intesa tra Udinese, Arlef e Comune di Udine sta prendendo forma, tanto che la cartellonistica e segnaletica di servizio diventerà prolilingue italiano, inglese e friulano, con ovviamente anche già nel magazine che ha degli articoli in friulano, questa non è una novità proprio degli ultimissimi tempi, è già qualche periodo che andiamo con il magazine plurilingua e ovviamente è un segnale di questa apertura alla lingua friulana ovviamente da parte dell'Udinese. C'è anche un piccolo flash sul big match perché finita la partita ci saranno le gare delle ore 15, alle 18 Inter-Juventus in un meazza tutto esaurito, Debora ha detto ci serve la carica dei nostri tifosi, Allegri, ci è andato subito pesante nonostante sia la quarta giornata, è il primo snodo per lo scudetto, queste le tematiche relative al calcio nazionale che approfondiremo magari più in là quando avremo tempo perché adesso c'è da parlare tanto di Udinese, Chievo, Verona e non solo, a cominciare da quella che è la probabile formazione del messaggero veneto con Baghe al posto di Widmer infortunato, davanti a Carnezis che è il numero uno, non più il 31, segnaliamo, poi Danilo, Felipe, Armero, Badu, Kums e Alfredson, ancora in leggero vantaggio su Fofana, Depola alle spalle di Terro e Zapata, modulo a specchio per il Chievo, Verona che non cambia e si schiera con Sorrentino, Cacciatore, Dainelli, Gamberini, Gobbi, Castro, Radovanovic e Temai, Birsa alle spalle di Meggiorini e Inglese, era questo forse l'unico ballottaggio inglese per l'issieme, visto che Inglese ha riposato forzatamente per un'influenza nell'ultima gara di campionato, probabilmente sarà lui ad andare in coppia con Meggiorini, Inglese che tra l'altro è un giocatore ancora a caccia del primo gol in campionato, c'è anche il Watford all'ora di pranzo con lo United nel menu e la faccia preoccupata di Mazzarri, è tutto un programma, l'Udinese gioca alle 12.30, il Watford alle 13 e quindi ci sarà possibilità insomma di scegliere quale partita guardare, noi non abbiamo assolutamente nessun dubbio, si andrà con la partita dei bianconeri che commenteremo ovviamente durante il studio stadio, dallo stadio stesso e con tutti i commenti della situazione. Bruno Pizzul anche punta su questa perduta continuità, si va alla ricerca proprio della continuità perduta, che l'anno scorso è stato davvero un tabù, ma questo soprattutto serve per consolidare l'autostima e la fiducia nei propri mezzi per stabilire un'accettabile continuità di rendimento, traguardo virtuoso che nel calcio può essere raggiunto solo attraverso una serie di risultati positivi. Per questo lo abbiamo sempre detto, vincere aiuta a vincere, sembra il più classico dei cliché del calcio, ma è assolutamente vero, anche quando le vittorie magari non sono super splendenti, come è capitato magari per quella di Empoli, ma servono per dare morale, servono per dare tempo per sviluppare un lavoro che ormai è sempre sempre più concreto. Andiamo anche a vedere quelli che sono i numeri con Iachini e Maran, Beppe e Rolando alla sfida numero 16. in panchina, Maran che non sarà però seduto sulla panchina della Dacciarena per una squalifica, insomma dispiace, lo ha detto anche proprio lo stesso Iachini, quando un collega subisce una squalifica del genere, Angela Goleador, chievo vittima preferita con la famosa doppietta che ricordiamo tutti, al Bentegodi nel novembre del 2012. Poi le parole ovviamente di Beppe Iachini con le mosse degli allenatori, così dice il messaggero Veneto, Iachini che ha detto peccato per Widmer, ma ho alternative anche nel suo ruolo. Il tecnico bianconero non è preoccupato dall'infortunio, ha detto Vagueo e tu deciderò all'ultimo chi scegliere, ha detto deciderò soprattutto insieme allo staff medico. Poi le punte titolari, Perizza lavora tanto e ha margini di miglioramento, lui e tutti gli altri giovani devono continuare così. Poi lo spazio non mancherà, il riferimento era ovviamente a Duvan Zapata, ha detto Iachini, anche lui è molto giovane, non dimentichiamolo, classe 91 Duvan Zapata, quindi ci aspettiamo i suoi gol. Arriveranno, ma non dobbiamo caricare troppo di pressioni proprio il ragazzo. Queste le due tematiche principali della conferenza di Iachini, che andiamo a sentire anche in un breve stralcio proprio della conferenza, in cui ha parlato della situazione legata a Silvan Widmer, di certo l'infortunio che non ci voleva come qualsiasi infortunio, ma la tranquillità del mister che sa di avere ottime soluzioni proprio in quel ruolo. Sì, abbiamo parlato, purtroppo è successo anche questo episodio, ma soprattutto al di là dell'aspetto dell'infortunio, dispiace per come è arrivato, anche per il ragazzo, perché stava ovviamente ancora crescendo, stava lavorando bene anche sia con la difesa a tre che con la difesa a quattro, stavamo insistendo su alcuni aspetti, e questo insomma interrompere, ma per qualsiasi giocatore, anche per Samir prima, per Ertò, sono stati infortuni direi un po' casuali, un po' particolari, che non è che ti succedono tutti i giorni, insomma scontrarsi con un compagno, perché anche Ertò era successo di scontrarsi con Danilo a Roma e purtroppo ha riportato la frattura della mandibola, quindi sono cose che dispiacciono, ma pazienza, dobbiamo cercare comunque di mandare in campo una squadra che, a prescindere da chi giochi, sempre sia gruppo, sia squadra, sia squadra organizzata, che sappia quello che deve fare, lo faccia con la mentalità e con l'atteggiamento giusto, e su questi aspetti che dobbiamo insistere, lavorare ancora, perché ovviamente abbiamo ancora margini di crescita. Per quanto riguarda la scelta nello specifico, noi lì avevamo e abbiamo, sia Ertò che Baghe, che adesso valuteremo anche nell'ultima seduta di allenamento, è chiaro, uno viene da un infortunio, come abbiamo detto prima, una frattura di una mandibola, Baghe magari ha avuto un infortunio alla spalla, quindi voglio dire, tutte cose che monitoreremo anche con lo staff medico e cercando di capire anche dai ragazzi chi magari può essere un attimino un po' più avanti dell'altro, solo questo, perché poi tutte e due possono occupare quella zona, certo, leggermente con caratteristiche diverse rispetto a quelle che potevano essere, no? Le caratteristiche di Vidibane, però nel calcio possono succedere certi episodi e quindi dobbiamo comunque non farcene un crucio né un alibi, chi va dentro sa quello che deve fare e deve dare il 200% per se stesso, per i compagni, per la squadra. Queste le parole di Beppe Iachini che sa di avere a disposizione un gruppo molto unito e con grandi qualità, Baghe che ha giocato in quel ruolo, se dovesse essere scelto lui nell'amichevole contro l'Olimpia Ljubljana, facendo anche molto bene in fase offensiva, quindi una difesa che tra l'altro falcidiata dai problemi, per fortuna Ertoa ha recuperato, ma non dimentichiamo che si è fatto male praticamente poco fa, Samir, adesso Widmer, ma nonostante tutto Iachini ha molta fiducia. Maran che va in tribuna per la bestemmia, ha detto li spingerò da là, sono deluso perché sono stato accusato ingiustamente di aver detto una cosa non vera, parole di Rolando Maran, che non sarà fisicamente in panchina quest'oggi. Insomma, si è aperto un dibattito sulle frasi pescate a bordo campo, dalle molte telecamere, ma anche dai signori della Procura Federale, perché abbiamo visto nella partita Pescara-Inter incappare in una blasfemia che non dovrebbe mai essere così a bordo campo, ma può succedere anche Massimo Oddo, non è stato usato lo stesso metro, Maran che ha voluto difendersi, soprattutto dopo questa campagna mediatica contro di lui, dopo questa squalipica, ripetiamo, c'è ovviamente anche il massimo della solidarietà professionale da parte di Iachini, ieri abbiamo chiesto se gli dispiace non averlo lì, e lui ha detto dispiace sempre, perché quando giochi vuoi confrontarti con il tuo collega in prima persona e non dalla tribuna. L'Udinese, primavera, stavolta fa il colpo ad Ascoli, dopo il pareggio con la Juventus, un pareggio eccezionale, quello già secondo me era un colpo, ne fa un altro ad Ascoli, quattro punti nelle prime due gare, sono un ottimo bottino, tra l'altro con un gol show da parte di Armenakas, vince e convince l'Udinese primavera, Corsara ad Ascoli, i bianconeri di Mattiussi sono passati in vantaggio con Alilovic, poi c'è stato il pareggio di Schiaroli nella ripresa, però Armenakas ha regalato il vantaggio mettendo in mostra tutta la propria qualità con avversari saltati come Birilli e gol, con pallone che si infila nell'angolo più lontano, sprazzi di grande classe, sprazzi di grande giocatore, qual è Panos Armenakas, atteso come al solito all'anno della possibile consacrazione, anche se è ancora giovanissimo, ha tanto tempo per farlo, nel frattempo ci godiamo quella che è stata la sua immensa giocata che ha deciso la partita di Ascoli, la vittoria per 2-1 dell'Udinese, firmata proprio dai talentini Alilovic e Armenakas, vediamo. Partiti, è iniziata ufficialmente Udinese-Ascoli, Armenakas di nuovo per Zanetti, il destro di Zanetti, il palo clamoroso di Alilovic, che occasione per l'Udinese, e poi Variola, gioco fermo, non so se ci fosse il fuorigioco di Zanetti, riesce comunque a gestire il pallone, il cross di Variola per Melissano, poi Alilovic, gol, gol di Dino Alilovic, finalmente, è riuscito a trovare la rete, il giocatore croato, che sigla dunque l'1-0, va ad abbracciare Mr. Matiusi, dopo il clamoroso errore con la Juventus, sappiamo quanto ha sofferto Dino, dopo quell'occasione clamorosa fallita, la partita successiva, è stato davvero bravissimo, nella linea dell'area di rigore, cerca lo schema Lascoli, addirittura il tiro in porta, gol, che gol da parte dell'Ascoli, una bordata da parte del centrocampista marchigiano, non sono riuscito ancora a capire chi fosse, un tiro che ha lasciato praticamente impietrito Borsellini, che parte in ritardo, si tratta di Schiaroli, però come dicevamo prima, bisogna immagazzinare più punti possibili, Geromina Cross, che bel pallone, sfera che resta lì per Mellissano, che sbaglia, un gol clamoroso, c'è benissimo, qui Fazzini, Fazzini va al destro, sfiora il vantaggio Lascoli, con questa grandissima azione di Fazzini, Fascoli che ora ha una grandissima chance per passare in vantaggio, tutto fermo però, tutto fermo, inutile, il gol di Tassi, c'era per fortuna, fuori gioco di Fazzini, Serafin in qualche modo Vasco, rischia tanto sulla pressione di Cermela, Cermela libera il destro, pallone che finisce in calcio d'angolo, c'è stata la deviazione, credo forse di Bovolone, su quello che è il proprio BTP stagionale, ricomincia in questo momento il secondo tempo, si riparte dall'1 a 1, si gioca a regolare l'inserimento di Bovolone, che ha direttore in tre anni di rigore, Bovolone, 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 pallone nel mezzo, non c'è la chiusura sul secondo paleo di Injulu, non si può essere sempre al massimo, Ascoli che si fa vedere in avanti con Eleoteri, Eleoteri, pallone che danza, sulla linea della porta, non viene ancora allontanata, Eleoteri questa volta sì, nel suo intento, Ascoli che soffia il pallone, lo recupera, però Armenakas, contro Piede Lodinese, Armenakas, 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 va via da solo, ancora Armenakas, 3 contro 1, Armenakas, rete, rete di panos Armenakas, che gol, da parte del calciatore più talentuoso in campo, va a cercare la telecamera Armenakas, dubstep per lui, ed è 2 a 1, la risolta con un colpo da fuoriclasse, da altre vie. Coracros sul secondo palo, Petronado, errore clamoroso, da parte di un calciatore bianconero, difensore centrale, quindi Mattio si vuole giocarsi, vuole erigere la roccaforte negli ultimi minuti, e cercare di portare a casa questo 2 a 1. Occhio alla traversa clamorosa, e poi l'erroraccio di Paolini, ma che occasione, ancora una volta per l'Ascoli. Per l'Udinese, ma ci vuole anche quello, una bella vittoria per i ragazzi di Mattiussi, che adesso si portano a 4 punti in classifica, punteggio pieno, soltanto per Torino e Sassuolo. Parliamo anche un po' di Paralimpiadi, con un finale trilling e Tarlao, che si prende il bronzo, questo è il titolo relativo alla grande rimonta del ciclista delle Paralimpiadi Friulano, si scontrano i primi due, il Friulano dopo una gran rimonta va sul podio, quindi applausi per Tarlao, che, residente a Cervignano, va a vincere questa medaglia importantissima, mentre purtroppo Giada Rossi nel ping pong, si ferma nella gara per team, al quarto posto, beffata nel finale Paralimpiadi, che stanno davvero facendo piovere medaglie per gli azzurri, e anche qualche soddisfazione per i nostri atleti friulani, giunti proprio in Brasile, per giocare la Kermess Olimpica. C'è poi una faccia triste, semi triste, quella di Tedino e del Pordenone, con il Parma, che spezza l'incantesimo, dal 2 a 0 al 2 a 4, sfumano imbattibilità in casa, e Primato, doppietta di Armà, con tra l'altro gol su rigore segnato al secondo minuto di gioco, ma poi tripletta di Nocciolini, e gol nel finale di Calaio, questo il tabellino impietoso, che comunque però lascia il Pordenone, in una buonissima posizione di classifica, 10 punti insieme al Gubbio, a un punto dal Venezia, che ha preso il primo posto, vincendo in trasferta ancora una volta ad Ancona, tra l'altro in una partita con una miriade di espulsi, 1 per l'Ancona e 3 per il Venezia, ma quanto basta, perché la squadra, dove militano i nostri ex, Domizzi, Marsura e Geico, possano prendere la prima piazza, con proprio il Pordenone lì, a un punto, a mordere le caviglie, Parma che sale invece a 8. La nuova tribuna alza la febbre del tifo, un'atmosfera mai vista al Bottecchia, con uno straordinario colpo d'occhio, purtroppo poi è arrivata la sconfitta, ma il pubblico è stato davvero caldissimo, non a caso sono stati tanti ringraziamenti a fine gara, da parte dei protagonisti su tutti, Tedino, tra l'altro c'è un piccolo focus, ancora Strizzolo, che segna una doppietta con Cittadella in B, Cittadella che in B sta facendo un miracolo, ha battuto 3 a 1 anche il Novara, e adesso si gode la doppietta di Strizzolo, che continua davvero a sorprendere. L'Ovisa è comunque contento, tornando a Pordenone, così arriveremo lontano. Il presidente è soddisfatto della prestazione, orgoglioso di squadra e pubblico, Tedino riconosce la superiorità degli avversari, Apolloni invece è felice, perché la sua panchina è salva, sembra strano, ma quando sei in una piazza come Parma, in Lega Pro, e devi per forza salire, avere problemi di panchina, è all'ordine del giorno, ricordiamo erano 5 i punti del Parma, prima della gara di Pordenone, e una sconfitta poteva inclinare la situazione dell'ex azzurro di Apolloni, queste le pagelle con ovviamente il 7 di Armand, che spicca su tutti gli altri, rigore al pronti via, incornata del raddoppio, sono i suoi gol che fanno sognare 5 in altrettante partite, e la speranza per i tifosi nero-verdi è che Armand possa non fermarsi, nonostante questi due gol, abbiano portato a casa 0 punti per il Pordenone, è rovinata la notte magica, ci dice il Gazzettino, sul punto, sulla partita, tra Pordenone e Parma, tante emozioni al Bottecchia, contro la nobile decaduta, illusorio il 2-0 iniziale, il Parma si riprende, come abbiamo detto, con la tripletta di Nocciolini, e il gol nel finale di Calaio, rete da parte dell'arciere, e poi il fischio finale da parte dell'arbitro, per l'avversaria è la prima vittoria in trasferta, un Parma che probabilmente sta ancora prendendo le misure alla Lega Pro, Pordenone che invece sa bene quello che vuole, lo si vede in campo, i tifosi ringraziano lo stesso, piace la nuova tribunetta, una serata comunque da ricordare, sarà una serata che entrerà nella storia del Pordenone, poi i più e i meno, con l'ex Viola che torna a casa col pallone firmato da tutti, questo Nocciolini attaccante, che ha davvero sparigliato le carte in tavola, poi c'è Calaione i più, e il popolo nero-verde, incessante l'incitamento dei supporters, durante tutto l'incontro, facile cantare quando le cose vanno bene, ancora invece molto più difficile farlo quando va male, i meno il centrocampo parmigiano, la difesa nero-verde, sono state le due cose negative della partita andata in scena, ieri al Bottecchia, Tedino che ha detto, ci manca ancora qualcosa, il mister, loro hanno avuto il colpo di Vieni al momento giusto, noi no, Loviso ha detto, pubblico meraviglioso, che poi ha dato una frecciatina al Parma, ha detto, se loro a due punti in meno in classifica di noi, esultano così tanto per averci sconfitto, vuol dire che siamo una grande squadra, vuol dire che siamo messi meglio in classifica, e che arriveremo forse anche meglio a fine campionato, la speranza ovviamente, ripetiamo, è questa, anche se Parma e Venezia sono due corazzate da cui guardarsi, anche il Gazzettino parla della doppietta di Strizzolo, con poi anche cose sulla Samb che sarà a quota 9, mentre Strizzolo con il Cittadella sta continuando a fare grandissime cose, in questo miracolo Cittadella, anche se siamo soltanto alle prime giornate di campionato, si parla poi nelle pagine più interne di Udinese, quindi ampio spazio è stato dato al Pordenone, poi ai bianconeri, la vigilia, caccia al Tris contro il Chievo, Iachini non abbiamo ancora fatto niente, ci sarà Vague al posto di Widmer, con un altro successo i bianconeri eguaglierebbero la serie d'oro di due anni fa, tra l'altro una serie che praticamente ci aveva portato quasi a essere vicini al primo posto, De Paul gioca dietro le punte, Veneti con due trequartisti, anche se forse non è proprio così, la lettura delle formazioni con Meggiorini che fa praticamente quasi il trequartista, ma comunque una punta a tutti gli effetti, c'è anche spazio per le parole del personaggio, riprese dalla nostra trasmissione Friday Night Live, l'uomo del momento, Perizza, Valnister e Tony sono i miei idoli, questo ha detto proprio Stipe, Perizza, ho lavorato tanto e voglio giocare, ha detto il Croato, e poi ci sono le parole di Maran, accusato ingiustamente, lo sfogo del tecnico accusato per bestemmia, la difesa è stato un labiale, interpretato male, quello da parte di Rolando Maran, secondo proprio quella che è stata la sua difesa stessa, vedremo insomma che non sarà in campo Maran, proprio per la partita contro l'Udinese, facciamo così, lo sentiamo velocemente Maran, poi prima pagina della Gazzetta, così poi siamo pronti a salutarci, vediamo qual è stata la sua difesa, per quello che è stato il caso della settimana, Rolando Maran, squalificato per bestemmia, e subito ha voluto dire la sua. Chiedo una cortesia, voglio riniziare io, vorrei chiudere un episodio, che mi ha visto protagonista, perché mi ha fatto molto arrabbiare, mi ha mortificato come uomo, perché sono deluso, sono deluso perché essere ingiustamente accusato di aver detto una cosa che assolutamente non è stata detta, mi mortifica come uomo, soprattutto questo, e questa è una cosa a cui tengo, perché tra l'altro basterebbe sentire tutti i miei dirigenti, tutti i miei giocatori, vedere se mai mi hanno sentito bestemmiare, voglio essere sempre là, con i ragazzi, a soffrire con loro, non ci sarò io, ma ci sarà il mio staff, io sarò lì comunque, lì sopra, a cercare di spingere anche mentalmente, quello che sarà la carica, che dovremmo avere domani. Allora, incontriamo una delle squadre che stanno bene, lo dimostrano i risultati, e hanno trovato una quadratura, un impatto notevole, è una squadra che ha qualità nel proprio organico, è una squadra molto fisica, è un bel test per noi, perché al di là che ogni partita è un test, però incontriamo una squadra che sta bene. Queste le parole relative all'Udinese, che sta bene, e Maran lo sa. Rapida rassegna della Gazzetta dello Sport, brividi a San Siro, Inter-Juve, già un doppio snodo con De Boer, che non può sbagliare, Moratti ha detto, è in una pentola bollente, Brozovic a casa, Allegri per riscattare l'Europa, incombe Mandzukic sul duello, Icardi-Iguain su questo duello, che ci sarà questa sera. Poi in taglio alto, il ciclone Milik, dalla panchina, altri due gol, e il Napoli in testa, Ira De Laurentiis sul San Paolo, perché ha detto, non andrò mai più in quello stadio, perché tra l'altro non si trova bene, e i tifosi lo insultano, li vediamo velocemente i gol, apre Cagliecon, nuovo capocandoniere della Serie A, almeno provvisoriamente, quinto gol in campionato, ancora di testa, sul bell'assistizio, e come è accaduto a Palermo. Poi si addormenta Reina, ma il gol di Verde è molto, molto bello, la 30 metri, il siluro del giocatore Scuola Milan, che esulta, e la Bologna sembra poter forse anche vincere la partita, ma entra Milik, e sulla verticale di Amsic, fa questo gol, pazzesco, il giocatore polacco classe 94, amico, molto stretto, di Piotr Zielinski, che poi si mette in prova, e segna, con una fucilata, dalla distanza, piegando le mani, al non irreprensibile, da Costa, c'è stata poi Lazio Pescara, illumina Felipe Anderson per la testa, di Milinkovic e Savic, dopo che il Pescara, aveva sbagliato il calcio di vigore, tra 0 a 0, con l'albanese Memushay, raddoppio di Radu, su azione di corner, battuto da Cataldi, un volatore ispirato, forse a sorpresa, da Inzaghi, e poi la 3 a 0, finale, con un'azione strepitosa, di Keita, e il più classico, dei gol degli ex, di Ciro Immobile, che segna la sua seconda rete, in campionato, non esulta, ma si gode la gioia, del primo gol, allo stadio olimpico, e della vittoria, della Lazio, velocemente a chiudere, le notizie, in taglio basso, con le storie da non perdere, lo spacca partite, bacca, quando segna, il Milan vince, i cinesi vanno verso il closing, poi un dramma, Perugia, purtroppo una notizia molto triste, infarto fatale, a un tifoso, match che è finito in Torello, 1 a 1, tra Perugia e Ternana, cittadella inarrestabile, quarta vittoria, e fuga, poi tra l'altro un'altra notizia triste, la morte in gara, alla Paralimpiade, con il ciclista iraniano, Golbar Nezad, che cade in discesa, aveva 48 anni, devidi alla quindicesima medaglia, oggi si chiude, con Bebe Vio, la schermitrice, porta bandiera, poi dossier, i 12 motivi per dire sì, all'Olimpiade di Roma 2024, oggi sarà pubblicizzata, in tutti gli stadi, compreso il nostro, con un bellissimo video emozionale, poi Gran Premio di Singapore, Vettel su tre ruote, partirà ultimo, Ferrari al buio, Rosberg record, e infine il golf, con l'Open d'Italia, al gran finale, Chico Molinari, che fa sognare l'Italia, era questa l'ultima notizia, della nostra rassegna stampa, ma la giornata è ancora, praticamente all'inizio, è ricchissima di appuntamenti, quindi a fra poco, alle 11.30, con Studio Stato, rimanete sempre con noi, su Dinesi TV. su Dinesi TV. Grazie a tutti.